allora sono le 11 e 30 come state vedendo vicino a dei fari guardate faccio vedere anche gli alberi così potete vedere che questo filmato non è un falso fino a questi fari in cielo c'è un puntino rosso questa è una mia pulizia zanzare comunque per farvi vedere questo oggetto luminoso che non so in realtà di cosa si tratta vedendolo ad occhio nudo è bellissimo il lucente però non avendo una telecamera molto potente posso farvi vedere solo questa cosa ora vi faccio vedere le luci della città così almeno vedete che è vero questo filmato e zoomando vedete il puntino che logicamente lampeggia un po' e poi diventa rosso questo è un oggetto sicuramente non so se è una sfera magari è un oggetto non identificato ma è bellissimo da vedere un saluto dallo stallone italiano ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti